Buongiorno, mi presento, mi chiamo Alessandro Gavazza e sono un documentarista freelance, sono laureato al Damsa di Torino con una tesi sulla storia e l'analisi del TG3. Che cos'è The Ustica Connection? Perché The Ustica Connection? The Ustica Connection è un canale YouTube, un contenitore all'interno del quale troverete ovviamente il documentario Indagini di un cittadino comune, che è il frutto di due anni di indagini e di ricerche investigative serrate, complicate, ma liberi da qualsiasi condizionamento che non fosse quello della ricerca pure semplice della verità su due delle più gravi stragi avvenute in questo paese, ovviamente la strage di Ustica e la strage di Bologna. All'interno del documentario, e poi ci sarà un video in cui spiegherò più nel dettaglio qual è stato il lavoro, qual è stato il filone che ho deciso di seguire, The Ustica Connection è però un contenitore che oltre a contenere gratuitamente, disponibile a tutti ovviamente come da prassi di YouTube, il documentario nella sua interezza, contiene tutto quello che è il materiale di scarto del documentario, che per ragioni di spazio e tempo non è stato possibile inserire. Ad esempio, una delle più importanti testimonianze è stata quella della Viere, della Ditali, che ha sostanzialmente confermato di sapere tutto, ma purtroppo non ha avuto il coraggio di dirmi tutta la verità. Questo documento sarà presente integralmente su The Ustica Connection, come l'ultima intervista di Giuliano Fontani, un carissimo amico giornalista di Sandro Marcucci, che poco prima di morire mi ha rilasciato la sua ultima intervista sulla vicenda Ustica ed è presente integralmente, sarà pubblicata integralmente su The Ustica Connection. E poi che altro? La prima volta, la prima ricostruzione video filmata completa del lavoro di due ingegneri aerospaziali, Marco De Monti e Ramon Cipressi, sulla vicenda di Ustica, ripresa nella sua interezza. All'interno del documentario ve ne è una piccola parte, su The Ustica Connection sarà pubblicata nella sua integralità. E poi che altro? L'intervista ad Aria Bonfietti, tutto quello che è il materiale e i commenti video futuri su quello che saranno le vicende legate alle due stragi, che per la prima volta vengono associate all'interno di un documentario, spesso, sempre si è parlato in maniera staccata dei due fatti, ma come insegnano le indagini investigative, associare, mettere insieme e raggruppare le informazioni è l'unico modo per ottenere la verità. Come è utile consultare delle fonti autorevoli? In questi lavori niente verrà preso dal caso. L'importantissimo per il lavoro che ho sviluppato è questo libro. Quindi fonti certe, fonti pubblicate, fonti pesanti e non farfalle come sento spesso su internet, alieni e quant'altro. Un saluto e grazie a tutti coloro che vorranno mettere mi piace o iscriviti sulla pagina.